Cesare Fazzari, dunque una partita incredibile, bella, per voi c'è stato questo esito amaro, peccato, ecco, perché la potevate vincere, si poteva pareggiare, alla fine l'avete persa. Assolutamente sì, oggi credo che abbiamo fatto una grande partita, grande partita da parte dei ragazzi, tutte e due le squadre fino alla fine ci hanno messo la voglia di vincere. Io ai ragazzi non posso che fare i complimenti perché oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di portezza da giocare con tutti, su un campo difficile come Ripa, che secondo me oggi non meritavamo di perdere. Credo che il pareggio forse era il risultato più giusto, peccato per l'errore dal dischetto, però non ci ha penalizzato, anzi abbiamo continuato ancora ad attaccare. Poi è arrivato il nostro pareggio con Basso di Labbio che l'hanno messa dentro, peccato per il gol loro alla fine, però come si dice, il calcio è bello per questo perché ci insegna che non bisogna mai mollare. Però faccio veramente i complimenti ai miei ragazzi per la grande partita che abbiamo fatto oggi. Assolutamente, i complimenti li hanno fatti anche dal ripali Mosani perché è stata una partita molto bella, però da questa prestazione potete trovare forse quella convinzione per credere un po' nel risalire questa classifica? Assolutamente sì, da questa partita siamo ancora più consapevoli di essere forti e di poterci giocare con tutti quanti. Ora da lunedì analizziamo questa partita e poi ci prepareremo al meglio per la prossima con l'Attilia che sulla carta sembra facile, ma non lo è. Bisogna prendere sempre le partite con le pinze e quindi affronteremo una squadra difficile. Il nostro obiettivo è rimanere in arte e andare in eccellenza perché tutti quanti noi lo vogliamo, perché questa società fa grandi sacrifici, non ci fa mai ancora nulla. Devo dire che abbiamo lavorato duramente anche nell'arco della pausa natalizia, lavoriamo alla grande, abbiamo un grande preparatore che li fa lì nella grande, una grande società, una società compatta, unita e quindi il nostro obiettivo rimane l'eccellenza. Grazie.